E se la vera ripresa fosse già adesso? Sì, prima che tutto ricominci. Quando l'atmosfera si carica di promesse e la tua testa di progetti da vivere. Quando nulla ti può deludere perché tutto può ancora succedere. E tu pregusti un incontro, uno sguardo, l'idea di un finale diverso. In fondo, non è forse vero che l'attesa della ripresa è essa stessa la ripresa. Agrali. Communication. Grazie. 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 Grazie.